Sigmund Freud, l'IOLS e altri scritti. Un bambino viene picchiato. Contributo alla conoscenza dell'origine delle perversioni sessuali. La rappresentazione fantastica un bambino viene picchiato è ammessa con sorprendente frequenza da persone che sono ricorse al trattamento analitico a causa di un'isteria o di una nevrosi ossessiva. È molto probabile che essa compaia ancora più spesso in altre persone che non sono state costrette a prendere questa decisione per una malattia manifesta. A questa fantasia si congiungono sentimenti di piacere in virtù dei quali essa è stata riprodotta innumerevoli volte o viene riprodotta tuttora. Al culmine della situazione immaginata si impone, quasi regolarmente, un soddisfacimento onanistico, dunque nell'ambito genitale. All'inizio in accordo con la volontà della persona, poi invece contro la sua volontà e con carattere coattivo. Questa fantasia viene ammessa solo con esitazione. Il ricordo del suo primo apparire è incerto, al trattamento analitico dell'argomento si oppone un'indubbia resistenza e si destano vergogna e senso di colpa, forse con più forza di quanto accada per analoghe comunicazioni sugli esordi della vita sessuale di cui si ammemoria. Alla fine è possibile stabilire che le prime fantasie di questo genere sono state coltivate in epoca molto remota, sicuramente prima del periodo scolastico, già durante il quinto e sesto anno di vita. Se a scuola il bambino aveva visto altri bambini picchiati dal maestro, questa esperienza ridestava tali fantasie se erano sopite, le rafforzava se erano ancora presenti e ne modificava il contenuto in modo rimarchevole. Da quel momento in poi i picchiati erano molti bambini, in numero indefinito. L'influsso della scuola era così evidente che i pazienti erano in un primo momento tentati di ricondurre le loro fantasie di percosse esclusivamente a queste impressioni del periodo scolastico, dopo i sei anni. Ma questa dichiarazione non reggeva mai, le fantasie erano state presenti già prima. Quando nelle classi superiori cessavano le percosse, il loro influsso veniva ampiamente sostituito dall'effetto della lettura, che acquistava ben presto importanza. Nella cerchia dei miei pazienti erano quasi sempre gli stessi libri, accessibili alla gioventù, a fornire nuovi spunti alle fantasie di percosse. I libri della cosiddetta Biblioteque Rose, La Capanna dello Zio Tom e simili. Facendo a gara con queste opere narrative, l'attività fantastica personale del bambino cominciava a inventare un gran numero di situazioni e di istituzioni nelle quali più bambini venivano picchiati, o in altro modo puniti e castigati a causa della loro cattiveria e delle loro malefatte. Dato che la rappresentazione fantastica un bambino viene picchiato era investita regolarmente con un intenso piacere e si concludeva in un atto di voluttuoso soddisfacimento autoerotico, ci saremmo potuti aspettare che anche il veder per cuotere un altro bambino a scuola fosse stato fonte di un analogo godimento. Ma questo non succedeva mai. L'essere stato testimone di scene di percosse reali a scuola aveva destato nel bambino che assisteva un sentimento peculiare di eccitazione, presumibilmente composito, nel quale la ripulsa svolgeva una parte importante. In alcuni casi l'esperienza reale delle scene di percosse era stata vissuta come qualcosa di intollerabile. Del resto, anche nelle fantasie più elaborate degli anni successivi, persisteva la condizione che ai bambini castigati non venisse arrecato alcun serio danno. Si era costretti a domandarsi quale relazione potesse intercorrere tra l'importanza delle fantasie di percosse e la parte che le reali punizioni corporali potevano aver avuto nell'educazione familiare del bambino. La supposizione più ovvia è che si trattasse di una relazione inversa non poteva essere dimostrata per l'unilateralità del materiale. Le persone che fornivano il materiale a queste analisi erano state percosse nella loro infanzia molto di rado e in ogni caso non erano state educate a suon di bastonate. Naturalmente a ciascuno di questi bambini era pur capitato una volta o l'altra di sperimentare la superiorità fisica dei propri genitori o educatori. Ne c'è bisogno di sottolineare con particolare enfasi che mai erano mancate le normali zuffe che si svolgono tra i bambini che vivono sotto lo stesso tetto. Su quelle antiche e semplici fantasie che non indicavano palesemente l'influsso di esperienze scolastiche o di scene tolte dai libri l'indagine avrebbe gradito saperne di più. Chi era il bambino picchiato? Lo stesso bambino che fantasticava o un altro? Era sempre lo stesso bambino oppure un altro a seconda dei casi? Chi era colui che picchiava il bambino? Un adulto? E in questo caso chi? Sì, oppure il bambino fantasticava chi gli stesso picchiava un altro bambino? A tutte queste domande non seguiva alcuna informazione chiarificatrice ma sempre soltanto un'unica esitante risposta non ne so di più un bambino viene picchiato. Le indagini sul sesso del bambino picchiato avevano più successo ma neanche chiarivano la situazione. A volte la risposta era sempre soltanto maschietti oppure soltanto bambine più spesso non lo so oppure non ha importanza. Ciò che voleva sapere colui che poneva la domanda e cioè se esistesse un rapporto costante tra il sesso del bambino che fantasticava e quello del bambino picchiato non veniva mai accertato. A volte compariva un ulteriore particolare tipico attinente al contenuto di questa fantasia il bambino piccolo viene picchiato sul sederino nudo. In queste condizioni non si poteva neppure stabilire a tutta prima se il piacere connesso con la fantasia di percosse dovesse essere definito sadico oppure masochistico. In base alle conoscenze finora acquisite l'interpretazione di una fantasia di questo genere che affiora nella piccola infanzia forse in circostanze casuali e alla quale il soggetto si attiene in vista di un soddisfacimento autoerotico non può essere che la seguente. Siamo di fronte a un tratto primario di perversione. Una delle componenti della funzione sessuale ha presumibilmente precorso le altre nello sviluppo si è resa prematuramente autonoma e si è fissata sottraendosi perciò ai successivi processi evolutivi e nel contempo dando prova di una particolare costituzione anomala del soggetto. Sappiamo che una perversione infantile di questo tipo non necessariamente persiste per tutta la vita. In seguito essa può soggiacere alla rimozione può essere sostituita da una formazione reattiva o essere trasformata in virtù di una sublimazione. Ma è possibile che la sublimazione derivi da un particolare processo che potrebbe essere frenato dalla rimozione. Se però questi processi non avvengono allora la perversione persiste nella vita matura e qualora nell'adulto noi troviamo un'aberrazione sessuale perversione feticismo inversione ci attendiamo a buon diritto di scoprire attraverso l'indagine anamnestica l'evento infantile che ha dato luogo a una fissazione del genere. In effetti già molto tempo prima dell'avvento della psicoanalisi osservatori come Binet avevano potuto ricondurre le singolari aberrazioni sessuali dell'età matura a tali impressioni dell'età infantile e precisamente dell'età che va dai 5 o 6 anni in su. È vero che a questo punto la nostra comprensione non poteva procedere oltre già che le impressioni che avevano prodotto la fissazione mancavano di qualsiasi forza traumatica erano per lo più banali e niente affatto eccitanti per altri individui non si poteva dire per quale motivo l'impulso sessuale si fosse fissato proprio su di esse era comunque lecito cercare di individuarne il significato basandosi sulla circostanza che proprio esse avevano offerto alla componente sessuale maturata precocemente e pronta a scattare un ancoraggio sia pur accidentale in ogni caso dovevamo essere preparati a che la catena della connessione causale trovasse in qualche punto un termine provvisorio e proprio la costituzione congenita dell'individuo sembrò corrispondere a tutti i requisiti richiesti a un simile punto dal resto se la componente sessuale precocemente distaccatasi è quella sadica ci aspettiamo in base alle conoscenze ricavate da altre fonti che a causa della rimozione cui soggiace in seguito si instauri una disposizione alla nevrosi ossessiva non si può dire che questa aspettativa sia contraddetta dal risultato della ricerca tra i sei casi il cui studio approfondito costituisce il fondamento di questa breve comunicazione quattro donne e due uomini ce n'erano alcuni di nevrosi ossessiva uno gravissimo che devastava la vita del soggetto uno di media gravità ben accessibile all'influsso terapeutico e infine un terzo che presentava se non altro alcuni dei tratti caratteristici di questa nevrosi un quarto caso certo era un'isteria bella e buona con dolori e inibizioni e quanto alla malattia del quinto paziente che fece ricorso all'analisi soltanto a causa della sua irresolutezza una diagnosi clinica grossolan non l'avrebbe classificata affatto o l'avrebbe liquidata come psicastenia non dobbiamo considerare deludente questa statistica in primo luogo perché sappiamo che non ogni disposizione si sviluppa necessariamente sino alla malattia e in secondo luogo perché possiamo accontentarci di chiarire ciò che esiste sottraendoci in linea di massima al compito di far capire perché una certa cosa non è accaduta le nostre attuali conoscenze ci consentirebbero di penetrare fin qui e non oltre nella comprensione delle fantasie di percosse va detto però che quando il medico analista si vede costretto ad ammettere che queste fantasie rimangono per lo più discoste dal rimanente contenuto della nevrosi e non trovano una collocazione precisa nella sua struttura nasce in lui il sospetto che il problema non sia con ciò esaurito ma come so per mia personale esperienza su tali impressioni si tende preferibilmente a sorvolare a rigore e perché questo argomento non dovrebbe essere considerato col massimo rigore possibile merita la denominazione di psicoanalisi corretta soltanto quel lavoro analitico che sia riuscito a sopprimere l'amnesia che cela all'adulto la conoscenza della propria vita infantile fin dal suo inizio vale a dire all'incirca dal secondo al quinto anno di vita è una verità questa sulla quale tra analisti non insisteremo mai abbastanza i motivi che spingono a trascurare questo monito sono per la verità comprensibili si vorrebbero raggiungere risultati utili in un tempo più breve e con minor fatica ma attualmente la conoscenza teorica è ancora per ciascuno di noi incomparabilmente più importante del risultato terapeutico e chi trascura l'analisi dell'infanzia non potrà che incorrere in errori di gravità enorme questa accentuazione dell'importanza delle esperienze più remote non implica una svalutazione dell'influsso di quelle più tarde ma mentre le impressioni di vita più tarde parlano nell'analisi con voce abbastanza alta per bocca del paziente a favore dei diritti dell'infanzia deve essere il medico ad alzare la voce è nell'età tra i due e i quattro o cinque anni che i fattori libidici congeniti vengono per la prima volta destati dalle esperienze e legati a determinati complessi le fantasie di percosse che stiamo considerando compaiono soltanto alla fine di questo periodo o dopo che esso è trascorso potrebbe dunque darsi che tali fantasie abbiano una preistoria che attraversino una evoluzione e corrispondano a un esito finale anziché a una manifestazione iniziale questa supposizione risulta confermata dall'analisi l'applicazione coerente di questa insegna che le fantasie di percosse hanno una storia evolutiva che non è affatto semplice e nel cui decorso le fantasie stesse si modificano in grandissima parte più di una volta tali modificazioni riguardano il loro rapporto con la persona che è fantastica il loro oggetto il loro contenuto e il loro significato per seguire più agevolmente queste trasformazioni che si verificano nelle fantasie di percosse mi permetterò ora di limitare le mie descrizioni alle persone di sesso femminile che del resto costituiscono 4 contro 2 la maggioranza del mio materiale alle fantasie di percosse degli uomini si congiunge per di più un altro tema che intendo tralasciare in questa comunicazione mi sforzerò di non schematizzare più di quanto sia inevitabile nell'illustrazione di un caso medio quando anche da una successiva osservazione dovesse risultare una maggior varietà di correlazioni sono però certo di aver colto un evento tipico e in vero non raro la prima fase delle fantasie di percosse nelle ragazze deve dunque appartenere a un periodo molto remoto della loro infanzia qualcosa in queste fantasie rimane stranamente indefinibile quasi fosse indifferente la scarna indicazione che si ottiene dalle pazienti nella prima comunicazione un bambino viene picchiato sembra giustificata per questo tipo di fantasia ma qualche cosa di altro è definibile con certezza e quando è così sempre nello stesso senso il bambino picchiato non è in effetti mai quello che è fantastica è regolarmente un altro bambino per lo più se esiste un fratellino o una sorellina poiché può trattarsi appunto sia di un fratello sia di una sorella non risulta nemmeno qui un rapporto costante tra il sesso del bambino che è fantastica e quello del bambino picchiato certamente quindi la fantasia non è masochistica si vorrebbe definirla sadica ma neppure si può trascurare il fatto che il bambino che è fantastica non è mai quello che picchia non è chiaro a tutta prima chi sia in realtà la persona che picchia si può solo affermare non un altro bambino bensì un adulto questa persona adulta indeterminata diventa più tardi riconoscibile in modo palese e inequivocabile come il padre della ragazza questa prima fase della fantasia di percosse è dunque perfettamente espressa dalla frase mio padre picchia il bambino rivelo gran parte del contenuto che dovrà essere illustrato in seguito se ad essa sostituisco mio padre picchia il bambino da me odiato si può del resto essere in dubbio se riconoscere o meno il carattere di fantasia già a questo stadio preliminare della successiva fantasia di percosse si tratta forse piuttosto del ricordo di eventi di cui si è stati testimoni o di desideri che sono affiorati in diverse occasioni ma questi dubbi non hanno importanza tra questa prima fase e la successiva sono avvenute profonde trasformazioni la persona che picchia è rimasta in vero la stessa vale a dire il padre ma il bambino picchiato è diventato un altro si tratta invariabilmente del bambino stesso che è fantastica la fantasia ha una spiccatissima accentuazione di piacere e si è riempita di un contenuto significativo della cui derivazione ci occuperemo in seguito il suo enunciato è ora il seguente vengo picchiata da mio padre la fantasia ha un carattere indubitabilmente masochistico questa seconda fase è fra tutte la più importante e densa di conseguenze ma di essa si può dire in un certo senso che non ha mai avuto un'esistenza reale in nessun caso viene ricordata non è mai riuscita a diventare cosciente è una costruzione dell'analisi ma non per questo è meno necessaria la terza fase somiglia di nuovo alla prima il suo enunciato ci è noto dalla comunicazione della paziente la persona che picchia non è mai il padre essa viene lasciata indeterminata come nella prima fase oppure il suo ruolo è assunto in modo tipico da un rappresentante del padre maestro la persona stessa del bambino che è fantastica non compare più nella fantasia di percosse alle nostre insistenti domande le pazienti si limitano a rispondere probabilmente assisto al posto di un unico bambino picchiato sono ora presenti per lo più molti bambini quasi sempre nelle fantasie delle ragazze ad essere picchiati sono dei maschi che però le pazienti non conoscono uno per uno la situazione originaria semplice e monotona dell'essere picchiati può subire le modificazioni e gli arricchimenti più svariati l'atto stesso del picchiare può essere sostituito da punizioni e umiliazioni di altro genere ma il carattere essenziale che distingue anche le più semplici fantasie di questa fase da quelle della prima e che ne stabilisce il rapporto con la fase intermedia è il seguente la fantasia è ora portatrice di un eccitamento intenso e inequivocabilmente sessuale e come tale è il veicolo del soddisfacimento onanistico ma proprio questo è l'enigma per quale via la fantasia ormai sadica per cui vengono picchiati i bambini estranei e sconosciuti è giunta a impossessarsi in modo d'ora in poi permanente della tendenza libidica della ragazzina non intendiamo neppure nasconderci che il nesso e la successione delle tre fasi della fantasia di percosse al pari di tutti gli altri suoi caratteri peculiari sono rimasti sinora completamente incomprensibili se con l'analisi ci inoltriamo attraverso quei periodi remoti in cui sono collegate le fantasie di percosse e a partire dai quali esse vengono ricordate i bambini ci appaiono irretiti negli eccitamenti del proprio complesso parentale la bimbetta è teneralmente fissata dal padre il quale verosimilmente ha fatto di tutto per conquistarsi il suo amore ponendo in tal modo il germe di un'impostazione di odio e di rivalità della figlia verso la madre tale impostazione permane accanto a una corrente di affettuoso bloccamento ed è destinata o a diventare con gli anni sempre più intensa e chiaramente cosciente o a offrire lo spunto per una reazione amorosa eccessiva nei confronti della madre stessa ma non è al rapporto con la madre che si ricollega la fantasia di percosse ci sono altri bambini in casa di pochissimi anni maggiori o minori per i quali si prova antipatia per una quantità di altre ragioni ma soprattutto perché si è costretti a spartire con loro l'amore dei genitori perciò essi vengono respinti con la selvaggia energia che è tipica della vita emotiva di quegli anni se si tratta di un fratellino o di una sorellina più giovane come in tre dei miei quattro casi oltre a odiare questo bambino lo si disprezza eppure si è costretti a stare a vedere in che modo costui attira su di sé quella parte di affetto che gli accecati genitori hanno ogni volta in serbo per l'ultimo nato si comprende ben presto che l'essere picchiati anche quando non fa tanto male significa una revoca d'amore e un'umiliazione parecchi bambini che si ritenevano stabilmente assisi sul trono dell'incrollabile amore dei loro genitori sono stati così sbalzati d'un colpo dall'olimpo della loro immaginaria onnipotenza è dunque una gradevole rappresentazione quella del padre che picchia questo odiato bambino a prescindere completamente dal fatto che il padre sia stato visto davvero nell'atto di picchiare tale rappresentazione significa mio padre non ama quest'altro bambino ama soltanto me questo è dunque il contenuto e il significato della fantasia di percosse nella sua prima fase la fantasia che soddisfa evidentemente la gelosia dei bambini e dipende dalla loro vita amorosa viene però validamente sorretta anche dai loro interessi egoistici rimane dunque dubbio se sia lecito definirla come una fantasia meramente sessuale e neppure ci si azzarda darle il nome di fantasia sadica si sa infatti che tutti gli indizi in base ai quali edifichiamo di solito le nostre distinzioni dileguano abitualmente quando ci si accosta alla loro origine ordunque per esprimerci in un modo che può forse riecheggiare la predizione delle tre streghe a banco la fantasia non è indubitabilmente sessuale non è sadica in se stessa ma tuttavia la stoffa per assumere in seguito entrambe queste caratterizzazioni in nessun caso però esiste un motivo per supporre che già questa prima fase della fantasia sia al servizio di un eccitamento che ricorrendo ai genitali riuscirà a scaricarsi in un atto onanistico con questa precoce scelta d'oggetto dell'amore incestuoso la vita sessuale dei bambini raggiunge evidentemente lo stadio dell'organizzazione genitale questo è più facilmente dimostrabile per il maschietto ma non può essere messo in dubbio neppure per la bimba una sorta di intuizione di quelle che saranno più tardi le mete sessuali definitive e normali domina gli impulsi libidici dei bambini ci si può senz'altro chiedere con stupore come mai ciò avvenga ma è un fatto che testimonia comunque come i genitali abbiano già assunto il loro ruolo nel processo di eccitamento il desiderio di fare un bambino con la madre non manca mai nel maschietto il desiderio di avere un bambino dal padre è costante nella bimba e ciò senza che essi abbiano la benché minima capacità di fare chiarezza su quale sia la via che può condurre all'appagamento di questi desideri che i genitali abbiano a che fare con questi fatti sembra certo ai bambini anche se nel loro almanaccare essi possono ricercare l'essenza della presupposta intimità tra i genitori in rapporti di tutt'altro genere per esempio nel fatto che i genitori dormono insieme che orinano in compagnia e simili e rispetto al mistero legato ai genitali questi contenuti possono più facilmente essere stati intesi mediante rappresentazioni verbali ma poi viene il tempo in cui questa precoce fioritura è rovinata dal gelo nessuno di questi innamoramenti incestuosi può sfuggire alla fatalità della rimozione essi incorrono nella rimozione o per circostanze esterne ben accertabili che provocano una delusione quali un'inaspettata mortificazione o la nascita indesiderata di un altro fratellino che viene sentita come un'infedeltà e così via oppure senza alcuna ragione scatenante per motivi puramente interni forse è soltanto perché è mancato l'appagamento troppo a lungo agognato è evidente che tali circostanze non costituiscono le cause determinanti e che anzi queste relazioni amorose sono destinate prima o poi a tramontare non sappiamo come né perché la cosa più probabile è che esse trascorrano perché hanno fatto il loro tempo perché i bambini entrano in una nuova fase di sviluppo che li costringe a ripetere ricapitolando la storia dell'umanità la rimozione della scelta oggettuale incestosa così come prima erano stati spinti a effettuare tale scelta ciò che è presente a livello inconscio come esito psichico degli impulsi amorosi incestuosi nella nuova fase non viene più assunto dalla coscienza e ciò che di tali impulsi è già diventato cosciente viene ricacciato fuori mentre si svolge questo processo di rimozione compare un senso di colpa che pur essendo anch'esso di origine sconosciuta è indubbiamente connesso con quei desideri incestuosi e legittimato da loro per durare nell'inconscio la fantasia risalente all'epoca dell'amore incestuoso diceva lui mio padre ama soltanto me non l'altro bambino tant'è che lo picchia il senso di colpa non sa trovare punizione più dura del rovesciamento di questo trionfo no lui non ti ama tant'è che ti picchia così nella fantasia della seconda fase quella di essere picchiati dal proprio padre si esprimerebbe direttamente il senso di colpa a cui ora soggiace l'amore per il padre la fantasia è dunque diventata masochistica a quel che so è sempre così il senso di colpa è invariabilmente l'elemento che trasforma il sadismo in masochismo questo però non è certo tutto il contenuto del masochismo il senso di colpa non può essersi conquistato il campo in modo esclusivo anche all'impulso amoroso deve spettare la sua parte ricordiamoci che stiamo parlando di bambini nei quali la componente sadica potè comparire precocemente e isolata per motivi costituzionali non è il caso di rinunciare a questo punto di vista proprio in questi bambini è particolarmente facilitato un ritorno all'organizzazione pregenitale sadico-anale della vita sessuale se l'organizzazione genitale a stento raggiunta è colpita dalla rimozione da ciò consegue non solo che qualsiasi rappresentanza psichica dell'amore incestuoso diventa o rimane inconscia ma anche in sovrappiù che l'organizzazione genitale stessa subisce una degradazione regressiva l'espressione mio padre mi ama era inteso in senso genitale mediante la regressione essa si muta in mio padre mi picchia vengo picchiato da mio padre questo essere picchiati è ora una combinazione di senso di colpa ed erotismo non è soltanto la punizione per il rapporto genitale severamente proibito è anche il sostituto regressivo di esso e da quest'ultima fonte trae l'eccitamento libidico che d'ora innanzi li sarà ancorato e che riuscirà a scaricarsi in atti onanistici ma è proprio questa finalmente l'essenza del masochismo la fantasia della seconda fase quella di essere picchiati dal proprio padre rimane di regola inconscia e ciò è probabilmente dovuto all'intensità della rimozione non sono in grado di indicare come mai in uno dei miei sei casi un maschio tale fantasia fosse invece ricordata consciamente questo individuo ora adulto aveva chiaramente conservato nella sua memoria il fatto che egli usava abitualmente a scopi onanistici la rappresentazione dell'essere picchiato dalla madre per la verità sostituì ben presto la propria madre con le madri dei compagni di scuola o con altre donne che in un modo o nell'altro somigliavano alla madre non si deve dimenticare che quando la fantasia incestuosa del maschio si trasforma nella fantasia masochistica corrispondente si verifica un capovolgimento più spiccato che nel caso della femmina l'attività è cioè sostituita dalla passività e può darsi che questo sovrappiù di deformazione eviti alla fantasia di rimanere inconscia per effetto della rimozione il senso di colpa sarebbe dunque soddisfatto dalla regressione anziché dalla rimozione nelle femmine il senso di colpa forse in sé più esigente non verrebbe invece placato se non dall'azione congiunta della regressione e della rimozione in due delle mie quattro pazienti si era sviluppata sulla fantasia di percosse masochistiche una complicata sovrastruttura di sogni a occhi aperti molto significativa per la vita delle pazienti stesse e alla quale spettava il compito di rendere possibile la sensazione di aver soddisfatto l'eccitamento pur rinunciando all'atto onanistico in uno di questi casi al contenuto di essere picchiata dal padre era concesso di penetrare nella coscienza purché l'io della paziente fosse reso irriconoscibile mediante un lieve travestimento l'eroe di queste storie veniva regolarmente picchiato dal padre in seguito soltanto punito umiliato e così via ma ripeto in genere la fantasia rimane inconscia e non può essere ricostruita che durante l'analisi questo permette forse di dar ragione a quei pazienti che dicono di ricordare che in loro l'onanismo era comparso già prima della fantasia di percosse della terza fase che stiamo per discutere questa si sarebbe aggiunta soltanto più tardi presumibilmente sotto l'influsso di scene scolastiche ogni qual volta abbiamo prestato fede a queste affermazioni siamo sempre stati propensi a supporre che l'onanismo sia stato in un primo tempo dominato da fantasie inconsce sostituite poi da fantasie consce come un sostituto di questo genere assumiamo quindi la ben nota fantasia di percosse della terza fase nella sua configurazione definitiva in essa il bambino che è fantastica compare ancora tutt'al più come spettatore mentre il padre è conservato nella figura di un maestro o di un altro superiore la fantasia che ora è simile a quella della prima fase sembra essersi nuovamente volta al sadico sembrerebbe che nella proposizione mio padre picchia l'altro bambino e gli ama soltanto me l'accento sia retrocesso sulla prima parte dopo che la seconda è soggeciuta alla rimozione eppure soltanto la forma di questa fantasia è sadica il soddisfacimento che da essa si ricava è masochistico il suo significato consiste in questo la fantasia si è assunta all'investimento libidico della parte rimossa oltre che contemporaneamente del senso di colpa legato al contenuto di quella parte tutti i numerosi indeterminati bambini che vengono picchiati dal maestro non sono altro in definitiva che sostituti della propria persona qui compare anche per la prima volta una sorta di costanza circa il sesso delle persone di cui la fantasia si avvale i bambini picchiati sono quasi sempre maschi sia nelle fantasie dei maschi sia in quelle delle femmine questo tratto non si spiega evidentemente con una eventuale rivalità tra i sessi giacché se così fosse nelle fantasie dei maschi a essere picchiate dovrebbero essere piuttosto delle femmine esso non ha nemmeno a che fare con il sesso del bambino odiato nella prima fase ma indica invece nelle femmine un processo più complicato quando si distolgono dall'amore incestuoso genitalmente inteso verso il proprio padre le bambine tendono generalmente a rompere con il loro ruolo femminile danno vita al loro complesso di mascolinità e da quel momento in poi non desiderano altro che essere maschi perciò anche i ragazzi picchiati che di esse fanno le veci nella fantasia sono maschi in entrambi i miei casi di sogni a occhi aperti uno assurse quasi a livello di creazione poetica gli eroi erano sempre soltanto giovanotti anzi le donne non comparivano affatto in queste escogitazioni e soltanto dopo molti anni vennero accolte in ruoli secondari spero di aver presentato in modo sufficientemente dettagliato le mie esperienze analitiche e chiedo soltanto che si tenga ancora conto del fatto che i sei casi spesso citati non esauriscono il mio materiale ma che anch'io dispongo al pari di altri analisti di un numero molto superiore di casi il cui esame è stato meno approfondito queste osservazioni possono essere utilizzate in più direzioni per chiarire la genesi delle perversioni in generale e del masochismo in particolare nonché per valutare la parte che la differenza tra i sessi svolge nella dinamica delle nevrosi il risultato più vistoso di tale discussione concerne l'origine delle perversioni non si intende certo demolire la concezione che a questo proposito mette soprattutto in rilievo il rafforzamento costituzionale o la precoce maturazione di una determinata componente sessuale ma con ciò non è detto tutto la perversione non è più un elemento isolato nella vita sessuale del bambino ma viene invece assunta nel contesto dei processi evolutivi tipici per non dire normali che ci sono noti essa è posta in relazione con l'amore oggettuale incestuoso del bambino con il suo complesso edipico fa la sua prima apparizione sul terreno di tale complesso e quando esso è crollato li sopravvive spesso da sola quale erede del suo carico libidico è gravata del senso di colpa che adesso è ancorato in definitiva la costituzione sessuale anomala ha dimostrato la propria forza imprimendo al complesso edipico un orientamento particolare e facendo sì che di questo complesso sopravvivesse e si manifestasse un residuo inconsueto la perversione infantile può come noto o diventare il fondamento su cui si edifica una perversione di segno analogo che dura tutta la vita che consuma tutta quanta la vita sessuale dell'individuo o invece può venire troncata e rimanere sullo sfondo di un normale sviluppo sessuale al quale sottrae pur sempre un certo ammontare energetico mentre il primo caso era già noto in epoca pre-analitica l'abisso tra i due è stato pressoché colmato dall'indagine analitica delle perversioni giunte a pieno sviluppo studiando questi pervertiti si riscontra infatti abbastanza spesso che anche essi di solito nell'epoca della pubertà avevano posto le basi di una normale attività sessuale ma non essendo queste basi abbastanza solide furono abbandonate di fronte ai primi inevitabili ostacoli e fu allora che il soggetto retrocedette definitivamente alla fissazione infantile sarebbe naturalmente importante sapere se è lecito asserire in via generalissima che le perversioni infantili traggono origine dal complesso edipico una cosa del genere non mi sembra impossibile pur non potendo certamente essere decisa senza ulteriori indagini se pensiamo alle anamnesi ottenute nei casi di perversione dell'età adulta notiamo tuttavia che l'impressione decisiva alla prima esperienza di tutti questi pervertiti feticisti e così via non viene mai collocata in un'epoca anteriore al loro sesto anno di vita intorno a questa epoca però la supremazia del complesso edipico è già trascorsa l'esperienza ricordata che per vie così misteriose è risultata efficace potrebbe benissimo averne rappresentato l'eredità i rapporti tra quell'esperienza e il complesso ormai rimosso restano necessariamente oscuri fin tanto che l'analisi non getta luce sull'epoca che sta alle spalle della prima impressione patogena si consideri dunque che scarso valore abbia per esempio l'asserzione di un'omosessualità innata la quale si basi su un'informazione che la persona in questione fin dall'ottavo o sesto anno di vita si è sentita tratta esclusivamente da persone del suo stesso sesso ma se è vero che l'origine delle perversioni può essere fatta risalire universalmente al complesso edipico tale complesso acquista ai nostri occhi un'importanza ancora più grande di prima già pensiamo che il complesso edipico sia l'autentico nucleo della nevrosi che la sessualità infantile che in esso culmina sia della nevrosi il vero elemento determinante e che quanto del complesso edipico sopravvive nell'inconscio instauri la disposizione per la successiva nevrosi dell'adulto la fantasia di percosse e altre analoghe fissazioni perverse non sarebbero dunque altro che sedimentazioni del complesso edipico cicatrici per così dire del processo che si è concluso proprio come il famigerato senso di inferiorità corrisponde a una cicatrice narcisistica dello stesso tipo in questa concezione mi dichiaro perfettamente d'accordo con Marsinovski che l'ha sostenuta recentemente in modo efficace questo delirio di piccolezza dei nevrotici è come noto soltanto parziale e perfettamente compatibile con l'esistenza di una sopravvalutazione di sé proveniente da altre fonti sull'origine dello stesso complesso edipico e sul destino che all'uomo è assegnato probabilmente unico fra tutti gli animali di dover cominciare due volte la propria vita sessuale da prima come tutte le altre creature nella piccola infanzia e poi da capo dopo una lunga interruzione nell'epoca della pubertà su tutto ciò dunque che si collega all'eredità arcaica dell'uomo mi sono espresso altrove e non intendo tornare in questa sede la discussione delle nostre fantasie di percosse contribuisce ben poco a chiarire la genesi del masochismo sembra in primo luogo confermato che il masochismo non sia una manifestazione pulsionale primaria che esso derivi piuttosto dal volgersi del sadismo contro la persona stessa del soggetto in virtù perciò di una regressione da un oggetto all'io se anche si devono ammettere sin dall'inizio soprattutto nella donna pulsioni aventi una meta passiva la passività non è ancora tutto il masochismo di esso fa parte integrante anche il carattere di dispiacere che in un appagamento pulsionale appare così strano la trasformazione del sadismo in masochismo sembra verificarsi per influsso del senso di colpa che concorre all'atto di rimozione la rimozione si esplica dunque qui con un triplice effetto rende inconsci gli esiti dell'organizzazione genitale costringe quest'ultima a regredire allo stadio precedente sadiconale e trasforma il sadismo di questo stadio in masochismo tale masochismo è passivo in un certo qual senso di nuovo narcisistico il secondo di questi tre effetti è reso possibile dalla fragilità che in questi casi bisogna presupporre dell'organizzazione genitale il terzo diventa obbligatorio perché il senso di colpa non può accettare il sadismo così come non accetta la scelta oggettuale incestuosa effettuata sul piano genitale d'altra parte d'onde provenga il senso di colpa stesso le analisi non dicono pare sia un apporto della nuova fase in cui entra il bambino e quando dura sembra corrispondere a una formazione cicatriziale analoga a quella del senso di inferiorità in base al nostro orientamento finora ancora incerto sulla struttura dell'io siamo propensi ad attribuire il senso di colpa a quella istanza che si contrappone come coscienza critica al resto dell'io è la stessa istanza che nel sogno produce il fenomeno funzionale di Silberer e che nel delirio di essere osservati si distacca dall'io osserveremo osserveremo inoltre per inciso che l'analisi della perversione infantile qui esaminata agevola anche la soluzione di un antico enigma che per la verità ha sempre tormentato coloro che sono fuori dell'analisi più degli stessi analisti eppure ancora recentemente perfino Eugen Bloiler ha ritenuto singolare e inspiegabile il fatto che l'onanismo sia posto dai nevrotici al centro del proprio senso di colpa per parte nostra reputiamo da tempo che questo senso di colpa si riferisca all'onanismo della piccola infanzia e non a quello della pubertà e sia da connettere in massima parte non all'atto onanistico ma piuttosto alla fantasia sia pure inconscia che alla base di esso e che proviene dunque dal complesso edipico Ho già spiegato a quale significato assorge di solito la terza fase apparentemente sadica della fantasia di percosse in veste di veicolo dell'eccitamento che spinge all'onanismo e quale attività fantastica che in parte continua la fantasia nello stesso senso e in parte la neutralizza per compensazione essa stimola tuttavia la fase incomparabilmente più importante è la seconda inconscia e masochistica vale a dire la fantasia di essere picchiati dal proprio padre e ciò non solo perché essa continua ad agire attraverso la mediazione della fase che la sostituisce sono dimostrabili altresì determinati effetti sul carattere i quali derivano direttamente dalla sua formulazione inconscia gli individui che hanno coltivato una simile fantasia sviluppano una particolare sensibilità ed eccitabilità nei confronti delle persone che si possono inserire nella serie paterna si lasciano facilmente offendere da costoro e così con proprio dolore e danno mandano a effetto la situazione fantasticata quella di essere picchiati dal padre non mi meraviglierei se un giorno si riuscisse a dimostrare che la stessa fantasia è alla base della mania di litigare propria dei paranoici le fantasie di percosse infantili sarebbero risultate assolutamente impenetrabili se a parte pochi riferimenti non avessi circoscritto la mia descrizione a ciò che si verifica nelle persone di sesso femminile ricapitolo in breve i risultati la fantasia di percosse delle ragazzine passa attraverso tre fasi di cui la prima e l'ultima sono ricordate consciamente mentre la seconda rimane inconscia le due fasi coscienti appaiono sadiche mentre la fase intermedia inconscia è indubitabilmente di natura masochistica il suo contenuto è l'essere picchiata dal padre ad essa aderiscono il gravame libidico e il senso di colpa il bambino picchiato è costantemente nella prima e nella terza fantasia un altro nella fase intermedia soltanto la bambina stessa nella terza fase cosciente sono quasi sempre soltanto dei maschi a essere picchiati la persona che picchia è inizialmente il padre sostituito in seguito da un suo rappresentante tratto dalla serie paterna la fantasia inconscia della fase intermedia aveva originariamente significato genitale e derivava per rimozione e regressione dal desiderio incestuoso della bambina di essere amata dal padre a ciò si aggiunga il fatto non strettamente connesso al resto che tra la seconda e la terza fase le ragazze cambiano sesso trasformandosi in maschi nella fantasia nella conoscenza delle fantasie di percosse dei ragazzi ho progredito meno forse solo perché il materiale era poco idoneo mi aspettavo come comprensibile una situazione perfettamente analoga nei maschi e nelle femmine per cui nella fantasia al posto del padre sarebbe dovuta comparire la madre la mia aspettativa sembrò confermata poiché la fantasia del ragazzo ritenuta equivalente aveva per contenuto l'essere picchiato dalla madre più tardi da una figura sostitutiva ma questa fantasia in cui la propria persona era conservata come oggetto differiva dalla seconda fase delle ragazze per il fatto che poteva diventare cosciente e se per questo la si voleva equiparare piuttosto alla terza fase delle ragazze risultava quale nuova differenza il fatto che la persona stessa del ragazzo non era sostituita da molti estrane indeterminati e meno che mai da molte ragazze l'aspettativa di un parallelismo completo si rivelò dunque infondata il mio materiale maschile comprendeva alcuni casi singoli caratterizzati da una fantasia infantile di percosse ed esenti da ulteriori grossolani disturbi dell'attività sessuale ad essi faceva riscontro un maggior numero di persone che si dovevano definire autentici masochisti nel senso della perversione sessuale questi ultimi o erano persone che trovavano il loro soddisfacimento sessuale esclusivamente nell'onanismo associato a fantasie masochistiche o erano individui i quali erano riusciti ad accoppiare masochismo e attività genitale in guisa tale da ottenere mediante preparativi masochistici ovvero in situazioni di tipo masochistico ora l'erezione e l'eiaculazione ora la capacità di effettuare un coito normale a costoro si aggiungeva il caso più raro di quei masochisti che nel loro comportamento perverso erano turbati dalla comparsa di rappresentazioni ossessive di insopportabile intensità ora i pervertiti soddisfatti hanno di rado motivo di ricorrere all'analisi ma per i tre gruppi di masochisti testè menzionati i motivi per andare dall'analista possono essere molto seri l'onanista masochista si ritrova assolutamente impotente quando finalmente si risolve a tentare il coito con una donna e chi è riuscito fino a un certo momento a effettuare il coito avvalendosi di una rappresentazione o di preparativi masochistici può improvvisamente scoprire che l'alleanza che li faceva così comodo è fallita in quanto l'organo genitale non reagisce più allo stimolo masochistico l'onanista masochista si ritrova assolutamente impotente quando finalmente si risolve a tentare il coito con una donna e chi è riuscito fino a un certo momento a effettuare il coito avvalendosi di una rappresentazione o di preparativi masochistici può improvvisamente scoprire che l'alleanza che li faceva così comodo è fallita in quanto l'organo genitale non reagisce più allo stimolo masochistico siamo soliti rassicurare gli impotenti psichici che si affidano alle nostre cure promettendo loro la guarigione ma anche in questa prognosi dovremmo essere più riservati fin tanto che ci è ignota la dinamica del disturbo è una brutta sorpresa quando l'analisi ci svela quale causa dell'impotenza puramente psichica un atteggiamento squisitamente masochistico magari radicato da lungo tempo in questi uomini masochisti facciamo dunque una scoperta che ci sollecita a non inseguire ulteriormente per ora l'analogia con le condizioni valide per la donna ma a giudicare la situazione di per sé risulta infatti che nelle loro fantasie masochistiche non meno che nei preparativi per realizzarle questi uomini si traspongono regolarmente nella parte della donna e cioè che il loro masochismo coincide con un atteggiamento femmineo questo fatto è facilmente dimostrabile in base ai particolari delle fantasie comunque molti pazienti ne sono anche consapevoli e lo esprimono sotto forma di certezza soggettiva e non cambia nulla se l'addobbo giocoso della scena masochistica si attiene alla finzione di un ragazzo di un paggio o di un apprendista maleducato che deve essere punito le persone che puniscono sono comunque sia nelle fantasie sia nei preparativi sempre donne questo è abbastanza sconcertante si vorrebbe anche sapere se già il masochismo della fantasia infantile di percosse si basi su tale atteggiamento femmineo lasciamo perciò da parte le condizioni difficilmente dilucidabili del masochismo negli adulti e volgiamoci alle fantasie di percosse infantili nel sesso maschile qui l'analisi dei primi anni dell'infanzia ci permette di fare un'altra sorprendente scoperta la fantasia cosciente o capace di diventare cosciente del venire picchiato dalla madre non è primaria essa possiede uno stadio preliminare invariabilmente inconscio il cui contenuto è vengo picchiato da mio padre questo stadio preliminare corrisponde dunque effettivamente alla seconda fase della fantasia nella ragazza la fantasia cosciente ben nota vengo picchiato da mia madre sta al posto della terza fase nella ragazza fase in cui come si è detto oggetto di percosse sono ragazzi sconosciuti non sono riuscito a dimostrare nel ragazzo uno stadio preliminare di natura sadica paragonabile alla prima fase della ragazza ma non intendo qui escludere nulla in modo definitivo giacché ammetto senz'altro che possano esistere tipi più complicati il venir picchiato della fantasia maschile come la chiamerò brevemente e spero in modo non equivoco è altresì un essere amato in senso genitale sia pure attenuato dalla regressione la fantasia maschile inconscia non diceva dunque in origine vengo picchiato da mio padre come abbiamo indicato provvisoriamente testè ma piuttosto vengo amato da mio padre attraverso i noti processi essa è stata trasformata nella fantasia cosciente vengo picchiato da mia madre la fantasia di percosse del ragazzo è dunque sin da principio passiva ed è scaturita effettivamente dall'atteggiamento femmineo verso il padre essa corrisponde inoltre al pari della fantasia femminile quella della ragazza al complesso edipico ma il parallelismo da noi atteso tra le due situazioni deve essere abbandonato a favore di una comunanza diversa in entrambi i casi la fantasia di percosse deriva dall'attaccamento incestuoso al padre contribuirà a chiarire le cose se aggiungo qui le altre concordanze e discordanze riscontrate tra le fantasie di percosse nei due sessi nella ragazza la fantasia masochistica inconscia trae origine dall'impostazione edipica normale nel ragazzo dall'impostazione edipica rovesciata quella che assume il padre come oggetto d'amore nella ragazza la fantasia ha uno stadio preliminare la prima fase in cui il picchiare compare nel suo significato indifferente e colpisce una persona odiata per gelosia entrambe le cose mancano nel caso del ragazzo anche se proprio questa differenza potrebbe essere abolita da un'osservazione più fortunata nel passaggio alla fantasia cosciente della terza fase che prende il posto della fantasia inconscia precedente la ragazza tiene fissa la persona del padre e in questo modo non muta il sesso della persona che picchia muta invece la persona picchiata e il suo sesso per cui alla fine un uomo picchia più maschietti il ragazzo al contrario muta la figura e il sesso di colui che picchia sostituendo il padre con la madre e tiene fissa invece la propria persona per cui alla fine la persona che picchia e quella picchiata sono di sesso diverso nella ragazza la situazione originariamente masochistica passiva è trasformata in virtù della rimozione in una situazione sadica il cui carattere sessuale è molto sfumato nel ragazzo la situazione rimane masochistica e conserva data la differenza di sesso tra la persona che picchia e quella che viene picchiata maggior somiglianza con la fantasia originaria intesa in senso genitale il ragazzo sfugge con la rimozione e l'elaborazione della fantasia inconscia alla propria omosessualità il fatto sorprendente nella sua successiva fantasia conscia è che essa abbia per contenuto un atteggiamento femmine o senza scelta d'oggetto omosessuale la ragazza invece si sottrae mediante lo stesso processo all'esigenza della vita amorosa in generale si fantastica uomo senza diventare essa stessa virilmente attiva e d'ora in poi guarda all'atto che ne sostituisce un altro di natura sessuale esclusivamente come spettatrice siamo autorizzati a supporre che attraverso la rimozione della fantasia inconscia originaria non si produca un grandissimo mutamento tutto ciò che per la coscienza è rimosso e rimpiazzato da qualcos'altro viene serbato nell'inconscio e mantiene la propria capacità di produrre effetti diverso è l'esito della regressione a uno stadio precedente dell'organizzazione sessuale di questa regressione siamo indotti a pensare che essa muti anche la situazione esistente nell'inconscio pertanto una volta avvenuta la rimozione continua a sussistere per entrambi i sessi nell'inconscio non la fantasia passiva di essere amati dal padre ma invece quella masochistica di essere da lui picchiati non mancano neppure indizi che testimoniano come la rimozione abbia raggiunto il suo scopo soltanto in modo assai incompleto il ragazzo che certo voleva sfuggire alla scelta d'oggetto omosessuale e non ha cambiato il proprio sesso si sente però donna nelle sue fantasie coscienti e fornisce le donne che picchiano di attributi e caratteristiche virili la ragazza che ha persino rinunciato al proprio sesso e che tutto sommato ha effettuato una rimozione più radicale non si sbarazza tuttavia del padre non si azzarda essa stessa a picchiare e poiché si è trasformata in un ragazzo fa sì che siano picchiati soprattutto dei ragazzi so che le differenze qui descritte in relazione alla fantasia di percosse nei due sessi non sono state chiarite a sufficienza e tuttavia tralascio il tentativo di districare queste complicazioni inseguendo nella dipendenza da altri fattori perché io stesso non considero esauriente il materiale d'osservazione di cui dispongo ma giacché esso è qui vorrei utilizzarlo per esaminare due teorie che in contrasto tra loro trattano entrambe del rapporto tra rimozione e carattere sessuale e ciascuna secondo il proprio punto di vista lo rappresentano come un rapporto assai stretto premetto che le ho sempre ritenute entrambe inadeguate e fuorvianti la prima di queste teorie è anonima mi fu esposta molti anni fa da un collega che allora era mio amico la sua grandiosa semplicità è talmente accattivante che ci si deve solo chiedere con meraviglia perché da allora essa si trovi rappresentata nella letteratura soltanto da sporadici accenni basandosi sulla costituzione bisessuale degli esseri umani essa afferma che la lotta dei caratteri sessuali è in ogni singola persona il motivo della rimozione il sesso più fortemente sviluppato il sesso dominante nell'individuo avrebbe rimosso nell'inconscio la rappresentanza psichica del sesso soccombente il nucleo dell'inconscio il rimosso sarebbe dunque costituito in ogni essere umano dall'elemento sessuale antitetico che in lui è presente questa teoria può avere un significato concreto solo se determiniamo il sesso di un individuo attraverso la conformazione dei suoi genitali altrimenti infatti il sesso più forte di un individuo diventa incerto e corriamo il rischio di far derivare dal risultato dell'indagine ciò che deve servirci come suo punto di partenza ricapitolando brevemente nell'uomo l'inconscio rimosso va fatto risalire a moti pulsionali femminili viceversa nella donna la seconda teoria è di origine più recente essa concorda con la prima nel presentare ancora una volta la lotta tra i due sessi come elemento decisivo della rimozione per il resto deve necessariamente contrapporsi alla prima le premesse alla quale si richiama non sono biologiche bensì sociologiche questa teoria della protesta virile formulata da Alfred Adler sostiene che un individuo si sforza di non rimanere nella inferiore linea femminile e tende verso la linea virile che è l'unica soddisfacente in base a questa protesta virile Adler spiega in modo generalissimo sia la formazione del carattere sia quella della nevrosi ma purtroppo i due processi che pure dovrebbero essere tenuti distinti sono separati Adler con così scarsa chiarezza e alla realtà della rimozione è attribuita comunque così poca importanza che ci si espone al rischio di fraintendimenti se si tenta di applicare la dottrina della protesta virile alla rimozione secondo il mio parere da questo tentativo dovrebbe risultare che la protesta virile e il volersi discostare dalla linea femminile costituisce in tutti i casi il motivo della rimozione l'elemento rimovente sarebbe perciò sempre un moto pulsionale maschile quello rimosso un moto pulsionale femminile ma anche il sintomo sarebbe allora il risultato di un impulso femminile poiché non possiamo rinunciare al carattere peculiare del sintomo alla tesi cioè che esso è un sostituto del rimosso fattosi largo a dispetto della rimozione mettiamo dunque alla prova le due teorie che hanno per così dire in comune la sessualizzazione del processo di rimozione nel caso della fantasia di percosse qui studiata la fantasia originaria vengo picchiato da mio padre corrisponde nel ragazzo a un'impostazione femminea e testimonia dunque la sua innata disposizione sessuale femminile quando tale fantasia soggiace alla rimozione sembra aver ragione la prima teoria che ha infatti enunciato la regola secondo cui l'elemento sessuale opposto coincide con il rimosso per la verità poco concorda con la nostra attesa e il fatto che ciò che risulta a rimozione avvenuta vale a dire la fantasia conscia dimostri a sua volta l'impostazione femminea ora però rivolta verso la madre ma non vogliamo addentrarci in un dubbio proprio ora che la soluzione è così vicina la fantasia originaria delle ragazze vengo picchiata da mio padre vale a dire amata corrisponde certo in quanto impostazione femminea al sesso manifesto che prevale in loro stando alla teoria essa dovrebbe dunque sottrarsi alla rimozione non avrebbe bisogno di diventare inconscia in realtà però diventa inconscia e viene soppiantata da una fantasia conscia che smentisce il carattere sessuale manifesto questa teoria è dunque inutilizzabile per la comprensione delle fantasie di percosse e da esse contraddetta si potrebbe obiettare che sono appunto ragazzi effemminati e ragazze mascoline che presentano queste fantasie di percosse e che subiscono queste traversie o che l'insorgere della fantasia passiva nel ragazzo e la sua rimozione nella ragazza andrebbero ascritti a un tratto di femminilità nel ragazzo e di mascolinità nella ragazza potremmo anche concordare con questa concezione ma l'asserita relazione tra il carattere sessuale manifesto e la scelta dell'elemento destinato alla rimozione non sarebbe perciò meno insostenibile in definitiva ciò che vediamo è soltanto questo nei maschi e nelle femmine compaiono moti pulsionali sia maschili che femminili i quali possono parimenti diventare inconsci in virtù della rimozione alla prova delle fantasie di percosse la teoria della protesta virile sembra reggere molto meglio tanto nel ragazzo quanto nella ragazza la fantasia di percosse corrisponde a un'impostazione femminea vale a dire a un indugio sulla linea femminile ed entrambi i sessi si affrettano a liberarsi di questa impostazione rimuovendo la fantasia per la verità la protesta virile sembra ottenere pieno successo soltanto nella ragazza nella quale si produce un esempio davvero ideale di come agisce la protesta virile nel ragazzo il risultato non è del tutto soddisfacente la linea femminile non viene abbandonata nella sua fantasia masochistica cosciente il ragazzo non sta certo sopra risponde dunque all'attesa suscitata dalla teoria se in questa fantasia riconosciamo un sintomo generato dal fallimento della protesta virile certo ci disturba il fatto che anche la fantasia della ragazza risultante dalla rimozione abbia valore e significato di sintomo proprio qui dove la protesta virile ha raggiunto pienamente il suo scopo non dovrebbero esserci le premesse per la formazione di sintomi prima di ricavare da questa difficoltà la supposizione che tutto il modo di vedere della protesta virile è inadeguato ai problemi delle nevrosi e delle perversioni e che la sua applicazione a questi problemi è comunque infruttuosa sarà meglio distogliere la nostra attenzione dalle fantasie passive di percosse per rivolgerla ad altre manifestazioni pulsionali della vita sessuale infantile che soggiacciono anch'esse alla rimozione nessuno può infatti dubitare che esistano anche desideri e fantasie i quali sin dall'inizio si attengono alla linea maschile e sono espressioni di moti pulsionali maschili per esempio certi impulsi sadici o le voglie che il bambino nutre verso sua madre e che derivano dal normale complesso edipico è altrettanto poco dubbio che anche questi desideri cadono preda della rimozione quando anche la protesta virile dovesse aver spiegato ben bene la rimozione delle fantasie passive che in seguito diventano masochistiche proprio per questo diventerebbe inservibile per il caso opposto delle fantasie attive il che è come dire che la dottrina della protesta virile è assolutamente inconciliabile con la realtà della rimozione soltanto chi sia disposto a rigettare tutte le acquisizioni psicologiche alle quali siamo giunti a partire dalla prima cura catartica di Breuer e grazie ad essa può attendersi che al principio della protesta virile spetti in futuro un significato qualsiasi nella dilucidazione delle nevrosi e delle perversioni la teoria psicoanalitica basata sull'osservazione tiene saldo il principio che non è lecito sessualizzare i motivi della rimozione il nucleo dell'inconscio psichico è formato dall'eredità arcaica dell'uomo cade preda del processo di rimozione tutto ciò che nel progredire verso successive fasi di sviluppo deve essere abbandonato perché inutilizzabile inconciliabile con il nuovo e ad esso dannoso questa selezione riesce meglio con le pulsioni di un gruppo che con quelle dell'altro queste ultime le pulsioni sessuali riescono in virtù di particolari condizioni che sono già state spesso illustrate a mandare a monte gli intenti della rimozione e a farsi rappresentare comunque da formazioni sostitutive disturbanti per questo la sessualità infantile che soggiace alla rimozione è la forza motrice principale della formazione dei sintomi e per questo la sua componente essenziale il complesso edipico è il complesso nucleare delle nevrosi spero con queste mie osservazioni di aver destato l'attesa che anche le aberrazioni sessuali dell'età infantile al pari di quelle dell'età adulta si diramino dal medesimo complesso